La giunta delle elezioni e delle immunità del Senato ha annullato l'elezione del leader della Lega e ministro dell'interno Matteo Salvini in Calabria accogliendo il ricorso presentato da Fulvia Michela Caligiuri di Forza Italia. L'organismo di Palazzo Madama, preseduto dal senatore Maurizio Gasparri, ha accolto ieri sera il ricorso presentato dalla Caligiuri, che è stata rappresentata in questa complessa battaglia, dall'avvocato Oreste Morcavallo al termine di una lunga discussione, durata alcune ore. Tutto era stato innescato dal riconteggio delle schede elettorali relative alle ultime elezioni politiche, dal quale era emersa l'attribuzione di quasi 30.000 voti in più al leader leghista per un errore di compilazione dei verbali al momento della registrazione dei risultati delle urne. La giunta presenterà ora all'aula del Senato, che dovrà pronunciarsi entro 20 giorni, la proposta di assegnare il seggio calabresa alla Caligiuri, mentre il vicepremiere Matteo Salvini avrebbe il paracadute dell'eseggio laziale. Se arriverà il via libera definitivo da parte dell'aula di Palazzo Madama, Forza Italia arriverà ad avere 62 senatori, mentre la Lega ne perderebbe dunque uno, abbassando la pattuglia di senatori in dotazione alla maggioranza.